Come usare le medie mobili nel trading? Benvenuto e benvenuta da Alberto Malini di Crypto Learners in questo video della serie Trading Tips, dove affrontiamo assieme le medie mobili standard nel trading di criptovalute, o dette anche Simple Moving Averages o Standard Moving Averages. Questo termine inglese sia io che Ivan spingiamo molto per utilizzare gli stessi termini inglesi perché è qualcosa di internazionale, qualcosa che viene insegnato soprattutto nel mondo anglosassone, oggi in tutto il mondo, e quindi ci sono dei termini che magari sentirai, sì tradotti in italiano, ma in realtà vengono comunemente utilizzati in inglese. Quindi siamo qui alla Trading Tips numero 5, quindi vieni probabilmente dal precedente video girato dall'amico Ivan, siamo noi, Crypto Learners, Ivan e Alberto, dove ha affrontato i time frame nel trading. Stiamo, come vedi, affrontando tutta una serie di elementi del trading, quindi piccole pillole che le abbiamo chiamate Trading Tips per darti la possibilità, sia che tu parta da zero e quindi non sai nulla di trading, di iniziare con pochissime video lezioni, gratuite tra l'altro, a masticare quello che è il trading, sia di criptovalute o di altri sottostanti. E se già sai qualcosina, hai modo di andare nei dettagli di, che ne so, l'indicatore RSI, piuttosto che MACD o altre cose importanti di cui parleremo nei prossimi video. Quindi io ti ringrazio per essere qui, dacci un like, sostieni il canale, dai il tuo contributo, facci sapere nei commenti cosa ne pensi, se ti piacciono queste Trading Tips, se anche tu utilizzi, magari sei già esperto e utilizzi in maniera diversa, perché ci sono mille modi per, ad esempio, le medie mobili per utilizzarle. Noi vediamo quelli principali, quelli che sono sia me che Ivan un pochettino più cari. E condividi questa playlist, condividi questo video con chi come te può avere bisogno di imparare due cosine base sul trading. Entriamo quindi nel dettaglio. Allora, le medie mobili o medie mobili standard. Vediamo innanzitutto come settarli. Qui abbiamo il grafico del Bitcoin, Bitcoin contro dollaro, grafico giornaliero, su TradingView. TradingView è uno strumento che noi utilizziamo tantissimo nel nostro pane quotidiano, la base sia per andare a vedere come si comportano cripto, Bitcoin o oro, piuttosto che altre copie valutarie. Comodissimo, fantastico, eccezionale, utilizzato da un pochettino da tutti nel mondo. È anche gratuito. Tra l'altro troverai o qui sotto o qui sopra il link al video tutorial su come utilizzare e accedere a TradingView, abbiamo anche un link, un link che puoi utilizzarlo. Noi utilizziamo una versione a pagamento perché ha delle features più avanzate, però puoi tranquillamente partire e ti consiglio vivamente e spassionatamente di farlo con la versione gratuita, perché così inizi a prendere confidenza di quello che stiamo vedendo a sé. Ok, quindi siamo su TradingView, grafico giornaliero, andiamo a settare le nostre medie mobili. Come si fa? Si va qua, si clicca qua sopra, indicatori e strategie, basta digitare moving average o anche più facile, ma, eccolo qua, ma, 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 anzi facciamo moving average, si fa meglio, moving, eccole qua, moving average in inglese, vedi? Moving average lo faccio tre volte, perché? Lo vediamo subito assieme. Perché ne utilizziamo tre differenti, ok? Molto semplice, vedi? Sul grafico sono già arrivati. E le andiamo a settare una a una. Quelle che sono i principali utilizzi sono media mobile 50 giorni. Questa è super utilizzata da tanti trader esperti, ok? Quindi l'abbiamo messa qua. La seconda la impostiamo a 100 giorni, quindi vado qui sul length, lunghezza, 100, ok? Poi gli cambio il colore, anzi, gliel'ha già messo diverso di default. Sulla terza, cliccando qua sul setting, ovviamente, sulla terza, il colore azzurrino chiaro, input, e me la metto a 200 giorni. Puoi fare così col cursore o, per comodità, io lo scrivo direttamente. Ok. 200 giorni. Quindi queste sono le tre principali moving average o medie mobili che noi utilizziamo. Allora, ti dico, non sempre utilizzo nelle mie strategie le moving average o medie mobili, ma spesso e volentieri lo faccio. Ivan le utilizza tantissimo. Lui è molto affezionato alla media mobile, soprattutto 50 giorni. Sono comunque un elemento, un indicatore fondamentale da tenere sempre sott'occhio. Ok. Che cosa sono? Ok, abbiamo visto come settarle, ma ragioniamo un attimo su cosa sono. Quindi, cos'è una media mobile? Tu sai benissimo, e l'hai visto anche dai precedenti video, cos'è una candela, una candlestick o candela giapponese. Ogni candela ha un prezzo di chiusura. Ok, prendiamo ad esempio, qui siamo in quella giornaliera, il prezzo di chiusura di ieri, perché quella di oggi ovviamente non ha ancora un prezzo di chiusura, il prezzo di chiusura di ieri, lo vedi anche qua su in alto, open 11.672. Ok. Cosa fa la media mobile? Non fa nient'altro che prendere il prezzo di chiusura di ogni candela, nei precedenti 50 giorni, in questo caso 100 giorni in questo, 200 giorni, li somma tutti e li divide per 50, in questo caso 100 in questa domanda, 200 in quest'altro. Quindi ottiene una media mobile, cioè una media del prezzo dei precedenti 50 giorni, precedenti 100 giorni o precedenti 200 giorni. Ecco perché questa media mobile, la prima che vedi in alto è quella a 50 giorni, è più vicina al prezzo, ma ovviamente non è sul prezzo perché nei precedenti 50 giorni il prezzo è stato anche relativamente più basso, quindi di conseguenza la media mobile è più bassa in questo momento. e così via per le altre. Più la tempistica su cui si calcola la media è lunga e più avrà un ritardo rispetto a quelle dove si calcola in un tempo minore. Ok. Infatti si dice che hanno una velocità inferiore a quelle con tempistiche maggiori. E lo vediamo, lo vediamo proprio qua, come vedi. Questa cresce più velocemente, questa un po' meno e questa cresce ancora meno velocemente e sono ovviamente distanti una dall'altra. Bene, quindi questo è cos'è la media mobile. Come vengono utilizzate? Come ti stavo dicendo, le principali. Poi si possono settare medie mobili a 23 giorni, a 150, a 400. Dopo diventa una cosa molto molto personale e ti invito caldamente a cercarti e studiarti i tuoi pattern, cioè dove vedere come funzionano, sulla base di quelle che sono le basi, che sono queste che vediamo assieme. Allora, le medie mobili sono utilizzate, hanno un grande utilizzo soprattutto nel grafico giornaliero, ok? E diventano dei supporti o resistenze dinamici, ok? E lo vediamo un pochettino meglio assieme. Allora, qui abbiamo un trend in crescita del Bitcoin, a partire da marzo. E difatti in un trend in crescita avremo la media mobile più veloce, quella a 50 giorni, che è al di sopra delle altre, ok? Viceversa è in un trend confermato discendente. Allora, se vedi, la media mobile a 50 giorni agisce proprio come una sorta di supporto-resistenza ed è più vicina al prezzo. Nel momento in cui c'è una alta confidence, cioè c'è molta positività, un sentimento bullish sul mercato, il prezzo rompe la media mobile, va su, rimane solitamente al di sopra. Qua c'è stato un periodo lungo del Bitcoin. Allora, racconta che oggi siamo al 24 di agosto 2020. Quindi c'è stato un momento da marzo, scusami, sì, fine marzo, quindi... No, fine aprile. Da fine aprile fino al 20 di luglio di sideways del prezzo del Bitcoin. E qua si sono un pochettino andate a confondere. Nel grafico daily c'è una valutazione, c'è una visione delle medie mobili migliore quando ci sono dei trend confermati. E comunque ti aiutano anche a definire il trend, le medie mobili. Ok. Quando c'è una buona confidenza di mercato, quindi c'è un buon sentiment, come dicevamo, la media mobile a 50 giorni è al di sotto del prezzo del Bitcoin o prezzo della valuta che tu hai scelto. Nel momento in cui si inizia a andare un pochettino in fase bearish o si stabilizza, ecco che viene rotta. Il supporto immediatamente inferiore diventa la successiva media mobile, in questo caso a 100 giorni. Ok. Come vedi il prezzo si è avvicinato a quella a 100 giorni, prima di avvicinarsi è rimbalzato ed è... ha sfondato la media mobile a 50 giorni. Quella a 200 serve come estremo supporto in caso di paura del mercato, in caso di sentiment negativo. Come vedi qua, stava andando su il prezzo del Bitcoin, poi c'è stato un forte calo in pochi giorni, ad esempio da 10.000 a circa 8.000, ma le medie mobili, sia quella a 100 giorni che a 200, sono servite da supporto. Quindi questo diventava un ottimo punto dove fare acquisti con una buona confidenza, ok? Se avesse sfondato questa media mobile, ok, bisognava vedere un pochettino altre situazioni, però come vedi non l'ha fatto. Stessa cosa qua, ha rotto quella a 50 giorni, quella a 100 gli è servita da supporto, e così via. Ripeto, non lo vediamo adesso per non tenere troppo lungo questo video, ma ti invito ad andare a studiarti e a valutare questi pattern indietro e nel tempo, per fare i tuoi backtest, per fare i tuoi test. Vediamo assieme un altro uso delle medie mobili in grafico a... Io uso molto quello a 4 ore, ok? In quello a 4 ore, come vedi, la media mobile a 50 giorni è fantastica. Ha fatto in questo periodo, in questo periodo recente, quindi qui di agosto, per il Bitcoin, gli ha fatto veramente da supporto. Qui l'ha la rotta, rivediamo il concetto che abbiamo detto prima, quella a 100 giorni, è servita proprio da ulteriore supporto. Una volta ha rotto quello dei 50, quello da 100 gli ha fatto da base di appoggio per rispingere sul prezzo. Poi è andato su, solitamente quando il prezzo si allontana molto dalla media mobile a 50 giorni, è facile che ci sia uno storno, una correzione del mercato, e così via. Qua adesso le ha rotte tutte e due al ribasso, quindi ci possiamo aspettare che questa media mobile a 200 giorni possa fare da ulteriore supporto, o magari no, magari il prezzo tornerà su. Quindi questa è una maniera di vedere e utilizzare le medie mobili nel trading. Un'altra maniera importante, ma te l'acceno solo velocemente, sono i famosi cross, cioè gli incroci delle medie mobili, e sono molto importanti quelli tra la media mobile da 50 e 200. Si chiamano tecnicamente golden cross quando la media mobile più veloce, quindi quella a 50 giorni, incrocia dal basso verso l'alto la media mobile a 200, e questo fa prevedere una continuazione di mercato, quindi un mercato bull. Viceversa, quando la media mobile, lo vediamo meglio un pochettino qui indietro, 50 giorni, incrocia verso il basso la media mobile a 200, si chiama dead cross, cioè incrocio mortale, invece quell'altro era il golden cross, l'incrocio d'oro. In questo caso, guarda caso, poco dopo c'è stato questo grosso crollo di mercato. Ripeto, ti invito a fare le tue valutazioni, fare i tuoi studi, giocarci con questi indicatori. In realtà non è un indicatore, è una media mobile. Ti invito a giocarci, creare e cercare i tuoi pattern, e così ci vediamo al prossimo video dove andremo a parlare di un indicatore oscillatore che è l'MACD. Bene, questo è tutto per questo video, grazie per avermi seguito. Ripeto, mettici un like, commenta, contribuisci, questa è la tua maniera di contribuire al nostro canale, e utilizza TradingView perché è uno strumento eccezionale. Ciao ad Alberto, al prossimo video, alla prossima Trading Tips. Ciao a tutti! Grazie a tutti.